Si chiama Xcaccia ed è un'app, la prima e l'unica in Italia, sviluppata per guidare i cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria. Le sue caratteristiche per ora presentano uno strumento efficace anche per soccorrere le persone in difficoltà. Nelle ultime settimane sono stati registrati diversi casi di soggetti dispersi tra le montagne calabresi, per lo più cercatori di funghi inesperti. Questa applicazione consente di orientarsi attraverso una mappa consultabile anche offline. Inoltre è in grado di lanciare un SOS contenente le coordinate GPS della propria posizione. È stata ideata da un informatico vibonese, Giuseppe Giannini. È stata progettata e realizzata per fornire servizi anche in assenza di copertura di rete. Fornisce quindi da questo punto di vista uno strumento di orientamento, poiché è di fatto un navigatore offline che in qualunque posizione ci si trovi, anche su una montagna, in pervia o in aperta campagna, è in grado di dire dove ci si trova sulla cartografia e di conseguenza di guidare verso dove ci si vuole recare. Sorprendenti le funzioni di ausilio ai cacciatori, indica quali specie possono essere abbattute nell'area geografica in cui ci si trova ed emette un segnale di allarme quando si entra in un'area protetta. Inoltre è in grado di semplificare tutte le procedure burocratiche di comunicazione agli uffici regionali, per quanto concerne il tipo e il numero delle specie abbattute, dati ad oggi raccolti con la compilazione cartacea del tesserino venatorio. Salvatore Bruno per la CNews 24.